Luciano Zarbono come intende portare avanti la sua linea politica in consiglio comunale ora che nel gruppo impieghi senza padroni è rimasto solo? Fondamentalmente non è cambiato niente perché non è che con la consigliera che oggi ha fatto un'altra scelta, la consigliera Mamieri ha fatto un'altra scelta, ci fosse stato un grande apporto, quindi continuo a fare quello che ho fatto, i documenti mi preparo io da solo, i comunicati stampa continuano a prepararle da solo, le question time le ho preparate e le continuo a preparare da solo, a proposito di question time io ritengo che la question time è un mezzo più veloce per cercare di portare a compimento le stanze dei cittadini. Diciamo che oltre alla sua ci sono due linee di opposizione, quella che fa capo al consigliere Enrico Lauretti più moderata e quella di Ivan Braco più radicale, dove si colloca? Nella mia linea, io sono io, tanto è vero che nell'ultimo consiglio comunale che c'è stato, io ho votato in maniera differente delle altre posizioni politiche, perché io ho la mia posizione politica, alcune volte coincide con una parte, altre volte con un'altra, ma io sono io. Zara Pano, lei ultimamente non ha nascosto le sue simpatie politiche giovanili per il fronte della gioventù, anche in un'ottica di riavvicinamento a Fratelli d'Italia che poi non c'è stata. Come concilia queste posizioni, sia pure risalenti con un'azione in consiglio comunale che è stata vicino alle posizioni, ad esempio di Lucio Sardi che è comunque il segretario provinciale di sinistra italiana. Diciamo che attualmente in comune di politica pura, se ne parla poco, anzi non se ne parla proprio. Ricordiamolo, è un comune capoluogo di provincia. È un comune capoluogo di provincia, nessun partito ha voluto mettere la propria sigla e questo è indicativo. C'è molta sfiducia nei confronti dei partiti e soprattutto da parte dei partiti stessi, ma quella è un'altra storia. Poi magari dedichiamo un'altra puntata per dire quali sono le mie intenzioni politiche. Un progetto di crescita, ma puramente politico. Per quanto riguarda invece le accuse che sono state mosse a me di fare una politica di sinistra, io sono nato di centrodestra e morirò di centrodestra. In comune, ripeto, non si fa nessun tipo di politica dal punto di vista strettamente politico, ma sono degli argomenti che alcune volte coincidono e altre volte no. Sono delle situazioni di fatto, non sono delle situazioni puramente di ideale, che sono tutt'altra cosa. Capita che qualche volta ci troviamo concordi o anche disaccordi, perché non ho avuto problemi a votare in maniera differente dall'altra parte della minoranza, non opposizione. E diventando io all'interno della stessa minoranza, opposizione rispetto agli altri.